Benvenuto su Mondi Nascosti, il negozio del fantasy e del gotico. Io sono Stefania e oggi ti voglio presentare una fata realizzata da Amy Brown, la fata Euda. Questa fata, come vedi, è dedicata all'autunno. Infatti, Amy Brown, una famosa artista nel mondo del fantasy, ha realizzato diverse fate dedicate proprio a questo periodo dell'anno. Ovviamente, essendo una fata autunnale, non possiamo che trovare delle foglie autunnali e uno di quelli che sono i simboli dell'autunno, che sono le zucche. Poi, come piace a molti clienti, questa fata ha la caratteristica orecchietta punta, che quindi ci ricorda la sua parte, sempre elfica. Poi, questa fata ha una grande particolarità, essendo d'autore. Infatti, nella parte retro possiamo trovare la firma dell'artista. Come dimensioni siamo circa 15x15 cm. La puoi trovare su www.mondinascosti.it Grazie e alla prossima!